L'uso di tabacco è una addiczione più grande che ha existito mondialmente. Un'addiczione non solo per la salute, ma anche che ha un costo molto alto. Di una conversazione con il signor Rudolfo Dufi-Arens, lei ha detto che dopo di 60 anni, le conseguenze del uso di tabacco sarebbe per essere esatto a parte della sua porta. Le conseguenze non solo per un susto, ma anche per la sua famiglia. Un susto può quando i doffi tomar la decisione immediata di stop con un momento. Oppi viaja non si pensa con adicciò facile per stop. In conversazione con diversi persone che hanno avuto un'addicciò nel momento, sempre la donna di comprendere cosa che non è molto facile per fare in maniera che non si pensa. Nel momento che non si tratta di tabacco, automaticamente non si tratta di nicotina. Qualcun prodotto di tabacco contiene di nicotina. La nicotina è un quimico altamente addicciò, perché è un quimico che è causato con persone per sviluppare un'addicciò rapido nel tabacco. Oppi viaja non si pensa con l'uso di cigare per causare solamente problemi con il pulmone. Ma non è solo un'addicciò che è un'addicciò, ma anche problemi con il pulmone, problemi con il respiratore, attacchi del cuore, stroke o altre malezioni croniche. Nel momento ci sono rischi anche per, tra l'altro, c'è la garganta, la bocca, il rio e i pancreas. In Aruba ci sono per lo meno di 30-50 casi nuovi per anni di c'è il pulmone. E 80% dei casi di agita è a causa di un momento. La parte più dolore sta con il ciancero che è traizionale, guardando il momento in cui ha dato il suo promesso, è stata una etapa grave che ha dato una tica chance per una persona a sobrevivere. Il signor Dufi lo contava con milagrosamente, che aveva un attacchi di corazone per via di rummamento che aveva un raro aterrissato per assinare la vita e la salute. Un dottor avisa a me, in Venezuela, che un'ordine è un'ordine, ma 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 è un'ordine. Ma è un'ordine, ma è un'ordine, ma è un'ordine.